stai mangiando eh? oh! ma dove c'è dove andiamo a mettere la pasta? eh beh, io non sto mangiando tutto qua, sono buone e sale, sono buone e sale eh? perché una curiosità non è una critica? perché la mamma non stava tutto questo tempo e ora si? perché mia figlia si è operata e ha bisogno di me e sto con mia figlia un bacio e buona domenica e la mamma non c'è niente, ma i frutti sono male, dove stanno? ma devi restare qua e quando ti metti da lì? ha già messo, non hai già messo tutti qua non hai già messo tutti qua? no, perché? perché l'ha già messo qua e vuole se l'ha mangiato tutti pure eh no che c'è? 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 ma fai c'è? fuori un presto buonasera salite sesto piano vi aspettiamo salite un attimo e scendete grazie